Monsignor Padovese, come vive la Chiesa in Turchia? La domanda richiede che si facciano considerazioni storiche per capire la situazione attuale. I cristiani hanno sempre costituito nell'impero ottomano una minoranza rilevante. Ancora nel 1927 erano il 20% della popolazione. Ora siamo poco più o poco meno di 100.000, considerate un po' tutte le diverse confessioni. Quindi un numero ormai del tutto insignificante che ha ridimensionato poi anche i modi stessi di essere presenti all'interno del paese e ha determinato anche la vita delle stesse comunità. Siamo in una situazione minoritaria all'interno di un mondo quasi totalmente musulmano. Quindi viviamo un po' questa situazione particolare che è appesantita anche dal fatto, vorrei dire, che vale ancora all'interno del paese un concetto di laicità che è reattiva rispetto alla situazione precedente, agli anni del 1923, però che in qualche modo grava ancora sulla nostra situazione di Chiesa a più livelli. Lei parla di Chiesa, però di fatto la Chiesa cattolica in Turchia non esiste, cioè non è una minoranza riconosciuta. Questo pone una serie di problemi. Uno dei problemi è l'impossibilità di aprire seminari, quindi la possibilità anche di formare un clero autoctono e di dare vita a un cristianesimo totalmente turco. Questo è uno dei problemi che ci assilla. Il fatto che non esistiamo ha una positiva controparte nel fatto che dall'estero può venire sempre qualcuno, come il sottoscritto, come la buona parte di sacerdoti del suore che operano ancora nel paese. Il discorso è un po' diverso per le minoranze riconosciute, che sono minoranze etniche, religiose, però rimane un po' sempre questa ipoteca sulla nostra realtà di Chiesa all'interno del paese. Come vive in Turchia il cristiano in relazione alle altre confessioni religiose? Ma partendo dal fatto che i cristiani si sono ridotti in un modo così vistoso, nasce evidentemente la domanda perché. Il perché trova una giustificazione all'interno di discriminazioni che si sono verificate, che pesano ancora, diciamo, sulla situazione attuale. E la conseguenza è che per diversi, se non per quei pochi che sono rimasti, l'essere cristiano non deve essere una realtà troppo visibile. Cioè si è cristiani all'interno di questa compagine, però non lo si mette fortemente in evidenza. Il problema dell'identità è ancora un problema sentito all'interno del paese. Non faccio un discorso comunque generale perché un giorno ho fatto un incontro con i nostri giovani, ho detto vi vergognate di mostrare la croce? Alcuni mi hanno detto sì, non la facciamo vedere. Altri mi hanno detto no, invece vogliamo mostrare che siamo cristiani. Quindi c'è ancora questo doppio atteggiamento nei confronti della società. Per quello che attiene invece ai rapporti con le altre confessioni, i rapporti vorrei dire che sono veramente buoni. Siamo passati da un piano di cordialità, direi, formale, a un maggiore interesse reciproco, a una condivisione, anche perché tutto sommato siamo nella stessa barca, abbiamo gli stessi problemi ed è bene che ci presentiamo alla società non tanto come armeni, oppure caldei, oppure cattolici, ma come cristiani. Quali sono le prospettive di crescita per la realtà cristiana in questa parte della Turchia? Mi pare che la situazione attualmente sia stazionaria. Stazionaria perché le leggi non cambiano. Quindi fin tanto che non ci saranno mutamenti, non soltanto veramente di legge, ma anche di cultura, rimarremo sempre in questa situazione. Buona grazia se riusciamo a mantenerci nella situazione attuale e a non ridurci ancora di numero come è avvenuto nei decenni passati. Viviamo, ripeto, in una situazione di stabilizzazione che peraltro dice ancora, lascia capire che c'è ancora molto da fare all'interno del Paese per il nostro riconoscimento come minoranza. E ripeto, non è soltanto un problema di legge, ma è un problema di cultura. Monsignor Padovese, come vede il possibile ingresso in Europa della Turchia, soprattutto come realtà cristiana? Il giudizio che ha dato la Commissione europea alla metà di ottobre circa l'ingresso della Turchia nell'Unione Europea è stato positivo per diversi aspetti. Situazione politica migliorata, i rapporti con gli altri Paesi anche migliorati, si vede ad esempio il rapporto Turchia e Armenia. Ci sono però dei nodi che la Commissione europea ha ancora messo in evidenza. Uno dei nodi riguarda le minoranze religiose, la libertà religiosa. E da questo punto di vista vorrei dire che se intanto i parametri europei non vengono applicati anche per il Paese sarà ben difficile che la Turchia entri in Europa, perché tra i diversi criteri ci sono anche questi, non ci sono soltanto criteri di tipo economico. Evidentemente, come responsabile di una minoranza cristiana, ma anche come voce, vorrei dire, anche degli altri miei confratelli vescovi, e mi sembra anche degli altri vescovi non cattolici, il parere è positivo. Cioè noi vorremmo, no? Ma vorremmo al tempo stesso che venissero messe in atto poi quelle, diciamo, espressioni di libertà religiosa che si riscontrano nei Paesi dell'Unione Europea. Ecco, non due pesi e due misure. Ecco, non capisco perché qui, ad esempio, non si possa aprire un seminario, mentre in Europa si può aprire. Non capisco perché non possiamo essere riconosciuti come minoranza religiosa quando anche in Paesi laici dell'Europa la Chiesa si può presentare con questo volto. Ecco, ci sono alcune cose che sono ancora rimaste un po' in sospeso e che aspettano di avere una soluzione definitiva, che non sia un po' un andare un passo avanti, un passo indietro. Perché la realtà del Paese tante volte mi lascia percepire che non c'è una volontà, diciamo, ferma e decisa di camminare in avanti. Senza fare colpe adesso a chi dirige il Paese, ma la realtà è che forse all'interno ci sono ancora troppi condizionamenti che rendono il passo più spedito.